Sei un porco, un disgraziato! Ma che sei impazzita, ti giuro era, mi devi credere! Ieri sera sono andato con Pasquale! Pasquale! Pasquale e io cugino siamo andati a Cera, insieme! E che film avete visto? Abbiamo visto i travolti del mare azzurro! Ah, travolti, l'avvisolito destino dell'azzurro mare d'agosto! E perché tu sei tornato alle due? Perché Pasquale ha voluto andare a Cera, dopo due anni di carcere aveva bisogno di stare un po' in mezzo alla gente! In che ristorante voi siete stati? A cosa? A Trastevere! Ah, a Trastevere! E da chi? Da quello famoso, il Boia! E che vi avete mangiato? Le solite cose! Elencale! L'antipasto, il solito affettato, insomma! Il solito affettato! E per primo? Per primo ho mangiato le tagliatelle, quelle alle bolognese! Le tagliatelle alle bolognese! Per secondo? Secondo il pollo, il solito pollo! Che parte del pollo, quale contorno e quale dessert? L'ala, i finocchi al gratte, poi per dolce la torta a margherita! Ma adesso, tesoro, su, facciamo la pace! Non s'avvicinare, per l'amor di Dio! Prima devo controllare con Pasquale! Sì, ah, Pasquale, chissà quando lo vedi! Beh! Momento, che vado io! Abbiamo già dato, eh! Chi era? Ah, niente, era la Croce Rossa! Sì, la Croce Rossa! Ah, caro Pasquale! Oh, che tu ti sei fatto nel naso! Eh, oh, che tu ti sei fatto! Allora ce ne andiamo al cinema, eh! Ah, c***o! No, le porcellane no! Ci tieni quanto ci tengo io? Di più! No, le porcellane no!